un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del sabato con American Track Simulator. Oggi partiremo da Flagstaff per raggiungere la città di Ontario. Hi everyone, welcome to the stream. Today we will do our journey from Flagstaff to Ontario City. Welcome to our week rendezvous. Detto questo, io direi di partire. Let's go! Andiamo! E anche questa sera cominceremo la corsa verso il milione di dollari. And tonight, or today, we will go on for the challenge reaching one million of dollar about the capital of my society. Un milione di dollari nel capitale sociale. Ma qui nessuno ci regala niente. We love Fernbus, dottorissimo, carissimo, ben ritrovato, buonasera. Grazie per essere passato in live. Come stai innanzitutto? Io oggi, come hai potuto vedere, ho fatto un salto veloce. perché avevo un po' di cose da fare. Però comunque mi sono fermato un po' da te. E immaginavo che la tua stanchezza sia dovuta soprattutto al grande impegno che ci hai messo, ma è quello che poi ci metti sempre nelle tue live. L'importante è che almeno la live sia andata bene. Insomma, tre live sono tante. se metti insieme le ore che praticamente hai trasmesso. Insomma, fa un bel po' di ore. E io mi sento un po' così svasato alla live della domenica quando faccio la maratona con farming. E lì veramente ti capisco. faccio più di tre ore di live. L'ultima ho fatto quasi cinque ore di live. perché i campi che ho unito è diventato un campo enorme. approfitto nella tua presenza per invitare gli amici che stanno guardando questo video. questa like o il video in replica su twitch o su youtube. di passare nel canale dell'amico fernbus08 e lasciare un bel like, un bel follow. seguitelo e vi divertirete da morire. vi farà scompisciare dalle risate nelle sue live. se siete guardate questo video durante il live o durante il replay. vi farà scompisciare la pagina di fernbus08. grazie mille. grazie mille. certo che... ritornando alle live che ho fatto oggi. come si chiama quel gioco là? minecraft se non ricordo male. ma è impegnativo. ci vuole anche una bella fantasia. infatti io se dovessi giocarci non saprei come riuscire a dare il meglio di me. già è abbastanza complicato farlo con house flipper. che è anche un gioco bello impegnativo. però fortnite effettivamente... eh scusate fortnite... scusami. mi sfugge il nome. minecraft è comunque impegnativo. un po' come anche l'altro gioco che porti The Sims. quindi amici che state guardando questo video. mi raccomando. supportiamo i piccoli streamer. anche se fernbus è un piccolo grande streamer. perché è uno streamer dal cuore grande. mi raccomando un bel follow. ovviamente se... se i miei video vi piacciono. ecco... seguite anche... ah... seguite anche il mio canale. caspiterina... eh... un piccolo... e perciò ho detto un piccolo grande streamer. eh... la live è un po' come è andata. mica d'andata problemi... internet oggi. si... decisamente. se sono degli ottimi risultati. stai... facendo. stai... come dire... stai... creando... un... un bel... rosito. un bel giardino ecco. anche perché... il tuo canale è molto seguito anche... da... dalle donne. quindi... è un canale... multicolor. anche nel mio canale... ci sono alcune... eh... donne. ma è bello sapere comunque... eh... quando... vado... soprattutto nel mio caso... quando mando la replica... le repliche delle... delle live precedenti. e poi al mattino... trovo dei messaggi... e... qualcosa di bello. quindi... quando... ho... 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 2 motori d'aereo. ecco perché... vado così veloce. no scherzi a parte in realtà questo camion questo flight liner mi sta dando veramente soddisfazioni a gugu veramente un ottimo mezzo Fernbus la live procede bene oppure si è bloccata se qualcuno in chat gentilmente mi scrive mi può scrivere se la live sta procedendo regolarmente o eventualmente ci sono gli inconvenienti tecnici e qui usiamo il vecchio un buon vecchio metodo lancia il mezzo in velocità metti un folle e lasciala andare finchè la barca va lasciala andare finchè la barca va tu non rimare finchè la barca va lasciala andare quando l'anello suonerà e ogni tanto come sempre faccio anche un po di improvvisazioni canore che fa la barca va guardare in realtà quindi durante la mia vita so so often do a singing performance I know this is not my best ma la migliore di comunicare ma spero che ti piacerebbe e spero che ti piacerebbe rilassato durante il mio streaming Grazie Juanito Grazie per il follow Have a great trip you too, my friend Welcome to the channel Welcome to our channel Thank you, thank you, thank you When the love comes to the campanella suonerà suonerà e sonomo 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 a me ma piaccio blu se tutte i giorni a cantà perchè sono stata zitta e mo mo mettiamo sfuga nanananananananana suonerò perchè te ne complesse non ne vuoi Thank you everyone for following the channel If you are watching this video in replay please leave a comment below I will be so happy to read you as soon as possible Thank you so much I want to say thank you to every people that leave a comment during my replay Thank you so much Tenersi a destra e poi uscire a destra Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che durante le repliche notturne o durante le repliche più in generale lasciano un messaggio un messaggio per far sapere che sono passati a guardare i miei video grazie mille questo mi onora grazie 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 hotel california by eagles siamo Grazie a tutti. 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 Let's go. Grazie a tutti. Las Vegas. E noi andiamo. Ogni tanto di risparmio energetico. Grazie a tutti. E voi che... che a quale tipo di gioco piace giocare. che vi piace... che vi piace... che vi piace... più... più... che... che è... che è... che è... quali... che è... che è... che è... che è... che è... che... che è... che è... che è... che... che è... che è... che è... che è... che... 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 è... che... che... che è... che... 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 or American Track or in general you play two sim games if you are on Facebook please follow the two channel called l'angolo dei simulatori and Dunkey Transport SRL thank you thank you thank you Devo trovare un posto dove scattare la foto di copertina di video però al momento non ho trovato cose di particolare interesse I have to shoot a pixel for the video tell me this time the trip is going very good and very soft I hope you will enjoy the soft gaming made by DAB Logistica mi auguro che il mio modo di fare streaming vi piaccia e soprattutto che vi piaccia il soft gaming un'esclusiva di DAB Logistica ebbene sì mille e mille e mille e la formula sei ebbene 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 vediamo un po' cosa riesco a tirare fuori da una composizione ok let's try to compose picture ma ai a a a a a a a Devo fare un complimento agli sviluppatori del gioco in qualità di appassionato di fotografia. Hanno creato un piccolo software molto intuitivo davvero ben fatto, quindi voglio complimentare di sviluppatori per il gioco di fotografia. Ho fatto con la parte di fare foto, è un amatore impassionato di fotografia. Great job! Great, great, great! Sulla musica di alta classe. CQDX, CQDX. Anyone come with me, overall? Siamo soli, siamo soli. Vivere insieme a te. Ragione, ragione te. Non è mica semplice. Non lo è stato mai perché. Io che ci credevo più di te. Che fosse impossibile. E smettila di piangere. Siamo soli. No. 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 No, 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 no. come buono, come bello, ovanino, cante belle queste case di legno prefabricate sono molto bello, le bambini è prefabricate sono molto bello... sì sono Buona lignetta dura, ma già ci sta tutto. Un po' di blu, ma... è ok. Un po' di blu... ...ma... 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 ...chiù ... Ma la notte e la festa è finita, evviva la vita, la gente si sveste, comincia un mondo, un mondo diverso ma fatto di uno e chi vibra vedrà, qui facciamo anche l'autocensura, qui sul canale di Dablogistica, ovvia. Dablogistica, ovvia. Come si paria col bambam? Come si paria col bambam? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, io sono solo qua giù in città. Sì, adesso. Sopra i tetti, un aeroplano che si arriva, tetti, tetti delle case. Non fraintendiamo. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accordo di avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno ne desideri nei miei pensieri all'incontrario. Voltate a sinistra. La chate mi cantare con la chita rai mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. La chate mi cantare con la chita rai mano. Una variazione sul tema. La chate mi cantare con la chita rai mano. Nel blu. Dipinto di blu. Felice di stare qua su con te. Con te. Con te. Felicità. E' un bicchiere di vino con il panino. La felicità. E' uno sguardo innocente in mezzo alla gente. La felicità. Se la luce quando mi piace è la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va. Come un pensiero che sa di felicità. E' uno sguardo. 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 Storia di noi brava gente che fa fatica, si innamora per niente, vita di sempre, ma è niente grande, un giorno in più se ne vamo, eccetera eccetera. E questo è Riccardo Fogli, Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni. E ogni volta, noi diciamo in italiano, in neapolitanica, canta che te passi, sing that it passi. So let's sing. Rappati, 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 rappati. Rappati, rappati. Non ho più pareti, ma alberi. Sono un'armonica, mi sembra un organo che suona. Che vibra per me e per te nell'immensità del cielo. Adesso vuole silenzio da parte mia. Now I will shut up for a few minutes, for a couple of minutes. Tico Lodalgo... młodalgo ta..., Tico da........... Tico dauğu ta... Prepararsi a voltare a destra Ok, ci vediamo a destra, tico-tico-taco. Io direi, visto che ci troviamo, rappocchiamo il mezzo. Andare dritto e poi voltare a destra. Voltare a destra. E come dice il grande Nick, vi saluto, nel dubbio, cipolla. Grande Nick. Mi raccomando, seguite anche il canale di Nick. Se non lo fate, lasciate un bel follow. E se vi va, magari fatelo anche con questo piccolo ed umile canale. Ecco l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lasciato il follow. Grazie mille per il follow. A tutti coloro che hanno lasciato un messaggio. E grazie very bit. Grazie mille per il follow. Grazie mille per il follow. Grazie mille per i messaggi. E per i messaggi. E per i messaggi. Grazie mille per supportare questo canale. rilassati. 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 take it easy, stai tranquillo, ti a guidare giù ezzo io, don't worry, it's me that must drive, you can relax, don't feel stressed, stressed, and sorry for my bad English, it's too late to apologize, it's never late to say I'm sorry or I apologize, ricordate che non è mai troppo tardi per chiedere scusa o perdona o chiedere di essere perdonati, andiamo avanti con il nostro programma, qui sulle frequenze di RadioTab Logistica 1, ai microfoni c'è Fabrizio, I'll radioTab Logistica 1, con il mic, there is Fabrizio, it's me Fabrizio, incredibile, non c'è un'anima viva, ma qui su questo serve, approfittiamo della discesa per mettere in volle e risparmiare un po' di gasolio, per mettere in volle e risparmiare un po' di gasolio, il progetto della strada e la imprezione del pescino sull'alto dell'alto inclinazione, for running on neutral gear and air. Viewer. I tried to take me off. I tried to take me off. It's soft gaming. Soft gaming is solo did up logistica. For the real soft gaming, it's an exclusive opt-up logistica one over. Cambio, cambio. Adesso devo girare a sinistra. Ok. Ok. Voltare a sinistra. Adesso devo ammettere che per me è molto più semplice, diciamo così, fare delle manovre ovviamente. Andando in avanti con il doppio rimorchio, piuttosto che con il rimorchio singolo. Adesso devo ammettere che per me è più facile fare le manovre. un di loro strutture. E' un altro blocco. Non lo so, con il quartiere e non lo so più grande. Un solo portare a sinistra. Ok, grazie. Prepararsi a voltare a sinistra E adesso c'è una sinistra Voltare a sinistra Andiamo avanti, let's go on with our trip Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a sinistra Siamo quasi arrivati Where should be arrived? I suppose, let me check Ah, duecento video va bene Ancora una tua volta di strada Three hundred miles I suppose, let's go on with our trip Check, check, check One, two, three Check, check, check One, two, two One, two, two Choo, 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 choo And you'll be next So And you'll be right back Choo, choo, choo And you can go on with a big train davvero molto bello American Truck Simulator American Truck Simulator is very 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 beautiful it's a very beautiful game tenersi a destra ok teniamoci a destra e E' il panerino, come se carino, sotto la luce sigla. Stendo l'orecchino, occhiali da sole e continuo a rappunirlo come va il livello, come va il livello. Stiamo per raggiungere l'88 milio orario. Stiamo arrivando l'88 milio orario. Great Scott, grande job. Back to the future. Retorno al futuro. Futuro. Stiamo andando con... Con l'inerzia sta andando avanti il camion. E adesso vero, a breve, metteremo in destrevo la marcia e continueremo ad andare avanti. Questa è stata riuscita. 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 iniantera. Cielo. Questa è stata 타versa. Questa è stata riuscita. Questa è stata riuscita. Questa è un' Israelitesinale. in gostanza ugliabile. Grazie a tutti. 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 Tenersi a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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